Non siamo Novax, è quanto vuole precisare Paolo Caruso, organizzatore della manifestazione che si è svolta in piazza Fratelli Bandiera Intra. Era una manifestazione a difesa della Costituzione della Libertà. Non era una manifestazione negazionista, brutto termine veicolato dai media, che in genere definisce chi nega l'olocausto. Il gruppo Rinascita non nega nulla, tanto è vero che sta aiutando concretamente tante persone colpite dal Covid, mettendoli in contatto con medici volontari che curano con efficacia la patologia. E aggiunge, abbiamo invitato a Verbagna esperti di grande competenza, medici, avvocati, economisti, una preside e l'onorevole Sara Cunial. Pensiamo di aver offerto alla città un contributo di primo ordine, di idee, di esperienza, di competenza, di cultura. Si vuole presentare Verbagna come città della cultura, città della libera espressione, del libero pensiero, ma poi si censura pesantemente ogni idea sgradita e ogni forma di proposta diversa da un pensiero unico che si ritiene indiscutibile. Intanto vanno avanti le indagini delle forze dell'ordine per identificare chi non ha rispettato le regole in piazza, non indossando le mascherine e non rispettando le distanze. Ed è arrivata anche la presa di posizione di Italia Viva VCO, dopo quella di Fratelli d'Italia e del PD. Condanniamo con forza la manifestazione e riteniamo che la mancanza di senno di fronte a una malattia per colpa della quale molte persone hanno perso i loro cari sia devastante.